Il nostro pianeta è sempre più popolato e a breve raggiungeremo gli 8 miliardi. Questo perché, al calo della natalità, si accompagna la diminuzione del tasso di mortalità. L'Africa è il continente con maggiore tasso di crescita, 2,4% all'anno. Anche America Latina e Asia sono in crescita. Al contrario Europa, America Settentrionale, Australia e Nuova Zelanda sono stabili se non addirittura il lieve calo, come l'Italia. Ma la popolazione non è distribuita in modo uniforme. La maggioranza vive nell'emisfero boreale, ma anche qui si va da aree densamente abitate, ad altre quasi deserte. Sulla distribuzione degli abitanti sul territorio hanno grande influenza i flussi migratori. Le persone, infatti, tendono a spostarsi dai paesi meno sviluppati e più poveri verso quelli più sviluppati e più ricchi. In generale, la popolazione si concentra sempre di più nelle città, per questo stanno aumentando nel mondo le megalopoli, città con oltre 10 milioni di abitanti, circondate da una periferia molto estesa, spesso degradata. Tutti noi, abitanti del pianeta Terra, apparteniamo a un'unica razza, quella del genere Homo sapiens. Le differenze esteriori, come per esempio il colore della pelle, derivano esclusivamente dall'adattamento all'ambiente che ciascun popolo ha compiuto. Le etnie sono invece comunità di persone, i cui membri condividono gli stessi elementi culturali, come lingua, religione, abitudini e tradizioni. Tutte le lingue del mondo appartengono a particolari famiglie, cioè nuclei considerati gli antenati delle lingue attuali. La lingua che impariamo da bambini è detta lingua madre. Anche le religioni possono essere divise in gruppi. Viviamo tutti sulla Terra, ma le condizioni degli abitanti non sono le stesse per tutti e variano molto da un paese all'altro. Spesso si sente parlare di terzo mondo oppure di una divisione tra nord e sud del mondo. Nel tempo si sono usati questi termini per classificare i paesi del mondo tra ricchi e poveri o tra paesi sviluppati ed altri ancora in via di sviluppo. La necessità di distinguere tra paesi ricchi e paesi poveri nasce dal fatto che, malgrado nel mondo si produca sempre più ricchezza, le ineguaglianze nella distribuzione del reddito sono aumentate invece di diminuire. Oggi l'1% della popolazione mondiale possiede più ricchezza del restante 99% messo insieme. 902 milioni di persone vivono in condizioni di povertà. Di questi, circa 570 milioni sono bambini che ancora oggi, soprattutto nell'Africa subsahariana, muoiono spesso di fame o di malattie che sarebbero facilmente curabili. Purtroppo esiste una relazione tra povertà materiale e perdita dei diritti fondamentali di ogni uomo, tra cui il diritto alla salute, alla libertà personale e all'istruzione. Citati nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, il documento pubblicato dall'ONU nel 1948, Dal momento che tali diritti non sono ancora garantiti a tutti nel mondo, l'ONU nel 2015 ha siglato un nuovo documento, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che contiene 17 obiettivi da realizzare entro il 2030 e che 193 Paesi si sono impegnati a rispettare. Grazie a tutti.